Troppo forte Novara per una Trentino-Rosa che a due giornate dalla fine della regular season resta sul fondo della classifica. Eppure le giallo-blu non hanno affatto demeritato nel match contro la prima forza del campionato. 3-1 per le ospiti e il risultato della BLM Group Arena da dove Piani e compagni sono usciti a testa alta, ma ancora una volta senza punti. Dopo aver vinto a 23 il primo set, la Delta ha subito il ritorno di Novara che nel secondo parziale ha annichilito Trento per 25-13. Più equilibrati altri due periodi dai quali comunque le piemontesi, con in evidenza la ex Dodorico, sono uscite vincenti rispettivamente a 22 e 21. Ora la data da segnare sul calendario è quella di domenica prossima quando la Trentino-Rosa affronterà in trasferta Roma. Lì si capirà se c'è ancora spazio per sperare nella salvezza.